Non si spara più in piazza Maidan ma la polveriera ucraina resta innescata. L'Europa oscilla fra la volontà di soccorrere in modo concreto la nazione ucraina e il timore di irritare lo zar del cremino, Vladimir Putin. La dannazione del giornalismo è che in certe circostanze le parole invecchiano appena pronunciate al microfono. Non era ancora terminato il sospiro di sollievo per la fine degli scontri in piazza Maidan, la cacciata di Ankovic e la liberazione di Giulia Timoshenko che il rumore dei cingolati russi sulle strade della Crimea faceva innalzare nuovamente il livello della tensione. Malgrado questo le sensate dichiarazioni reseci dal membro della Commissione Esteri Potito Salatto appaiono ancora grandemente realistiche. Cosa può e cosa deve fare l'Unione Europea su questo tema? In verità io mi sono espresso quale membro della Commissione Esteri a Parlamento Europeo precedentemente dicendo che l'Europa era già in ritardo con il suo intervento e tra l'altro dicevo che non poteva essere solo la Germania ad essere principale attrice di una iniziativa che doveva essere complessivamente europea. Credo che qualche passo avanti non sia stato fatto, è veramente singolare, questo vale per i nostri cittadini dove nel nostro paese ci sono molte persone, alcune forze politiche che vorrebbero l'uscita dell'Italia dall'Europa mentre altrove ci si rimette la vita per poter entrare in Europa comprendendone il significato, la prospettiva di un'Europa diversa certo ma comunque dell'Europa unita. Per cui io ritengo che adesso nei prossimi giorni si debba intervenire anche in termini economici e finanziari avendo Putin interrotto il prestito che aveva promesso quel paese. Mi auguro che ci sia non un cambio di governo come si dice ma un atto di riconciliazione complessivo che possa tenere su un paese che merita attenzione e solidarietà al massimo. I rapporti con l'orso russo, con il grande colosso di Vladimir Putin rischiano di essere compromessi dalla vicenda ucraina? Ma alla fine sono posizioni formali. Io non credo che la Russia possa permettersi in questa fase di interrompere i rapporti con l'Europa. Alla fine sarà costretto, come dico io scherzando, a cedere con fermezza perché ci sono interessi economici, politici tali per cui io non immagino che Putin voglia rompere o interrompere i rapporti con l'Europa. Certo va tenuta presente anche questa esigenza russa e va contemperata in termini diplomatici come sempre succede. A Strasburgo però non tutti ritengono che l'Unione debba mettersi al fianco del governo di Kiev. In particolare l'italiano Claudio Morganti e altri deputati del gruppo dell'Europa per la Libertà e la Democrazia hanno chiesto all'Unione di evitare ulteriori interferenze nella vita della politica ucraina mentre l'eurocritica Susi De Martini dell'ECR si è spinta ad affermare nel momento più sanguinoso della crisi ucraina che gli insorti fili europei fossero foraggiati dalla fondazione Adenauer e da Angela Merkel. L'opinione maggioritaria comunque è che il processo di integrazione dell'Ucraina nell'Unione debba essere tanto graduale quanto inevitabile anche se l'amputazione della Crimea potrebbe renderlo molto più veloce e convulso ed anche se nel momento in cui ascoltate questo servizio lo scenario potrebbe essere ancora una volta drammaticamente cambiato.